che cercate ecco guardate lo smonta tutto va via chihuahua perché questo chihuahua non ci fa passare per inciso dobbiamo riuscire a far rotolare una palla e colpire l'anello centrale un grande orso credo che sia mamma orsa per quale motivo ci sbarra la via benvenuti nella cameretta degli orsetti questi cuccioli stanno dormendo ve ne starete accorgendo si dovevano svegliare ma il drin drin la campanella della sveglia ha dovuto rubare mamma orsa dovete aiutare scuotendo i lettini li farete alzare se adesso i lettini scuoterete gli orsetti sveglierete oh ma quanta esagerazione per questa energia magica dai poteri straordinari ma perché questo pappagallo non si lascia passare benvenuti nel parco della scuola materna dei pappagalli al direttore della scuola serve il vostro aiuto ascoltate oggi la campanella il direttore non può suonare se per caso il drin drin la riesce ad ascoltare con se la vuole portare dovete richiamare la loro attenzione e fare tanto rumore così che ora i pappagalli capiranno e a scuola rientreranno ciao ciao ciao